Congelato lo sciopero dei benzinai annunciato per il 25 e 26 gennaio, lo stop dopo un primo incontro a Roma con il governo. Il confronto riprenderà martedì prossimo. Solo allora i rappresentanti di categoria decideranno se revocare la serrata o confermarla. Ci hanno promesso di rincontrarci i primi giorni della settimana prossima per entrare più sul tecnico. Apprezziamo e hanno apprezzato il fatto che abbiamo dato le nostre spiegazioni, quello che diciamo da una settimana che il prezzo non lo gestiamo noi e quindi non siamo noi che andiamo a incidere sul prezzo finale. Sicuramente ci auspichiamo che anche il decreto trasparenza sia modificato in toto perché anche lì mettere un prezzo medio nazionale diventa un po' difficile da gestire anche a livello territoriale perché quando parliamo di un prezzo medio il prezzo medio va modificato anche a seconda dell'impianto se si trova a una certa distanza dalle raffinerie. Sicuramente se si trova a 300 km i prezzi di trasporto aumentano e quindi in listino automaticamente le compagnie petrolifere sono costrette ad aumentarlo lievemente. Quindi la soluzione potrebbe essere di mettere un prezzo sicuramente medio nazionale sul portale del MISE in modo che tutti possano andare a controllarlo, metterlo sull'impianto crea solo confusione e sicuramente distrae il cliente da effettivamente quello che va a pagare. Poi per quanto riguarda la comunicazione di prezzi anche lì siamo molto scettici cioè minimo minimo un gestore manda circa 120 comunicazioni all'anno 120 comunicazioni moltiplicato per i 20.000 impianti per chi lo fa correttamente hanno dei dati allucinanti da controllare. Dovremo capire se questi dati dopo alla fine vengono controllati e come si dice in Italia con un clic dovrebbero riuscire a risolvere il problema.